Il Puzzle Pizz, intercettato dai nostri microfoni, ha dichiarato di non vedere l'ora di iniziare a giocare con i nuovi compagni e di disputare una bellissima stagione qui a Roseto, anche se, dopo il lungo volo, adesso ha solo bisogno di riposo, ma da domani sarà già al lavoro con il resto del team. Gli squali sono pronti!